Stamattina noi siamo state convocate per vaccinare mia figlia in quanto caregiver. È stata convocata prima lei di me, però lei è minorenne e siccome qui somministrano solo AstraZeneca, non hanno voluto vaccinarla e ci hanno detto che ci richiameranno quando lei avrà compiuto 18 anni. Per loro è previsto il vaccino Pfizer, ma qui sono sprovviste alla fagioneria di Capodimonte. Come mai ci hanno convocato? Abbiamo perso una mattinata, non ci siamo vaccinati, non hanno voluto nemmeno dare a me la dose che spettava a lei, e visto che io comunque sono in piattaforma, però non sono ancora stata convocata, mi hanno detto di no, quindi abbiamo perso una mattinata. Io ero convinta che mi avessero convocata perché avrebbero fatto Pfizer, ho detto magari avranno le dosi, saranno organizzate, invece no. Anche perché se io non ho 17, tra due mesi ne faccio 18, ma se ne avevo appena compiuti 16 dovevo aspettare due anni per vaccinarmi, non lo so. Eppure noi dobbiamo proteggere mio fratello che è disabile, quindi non ha per niente senso secondo me. Io ho incontrato un altro papà con due gemelle che compiono 18 anni tra una quindicina di giorni e anche loro sono stati mandati indietro, ovviamente il signore ha preso un giorno di permesso dal lavoro, anche io ho chiesto a una persona di occuparsi di mio figlio che è disabile ed è rimasto a casa. E niente, insomma, questa è l'organizzazione.